Cosa spinge un uomo ad affrontare una bufera e a uccidere a sangue freddo? Beh, vi assicuro che non lo so. Ma è sorprendente vedere... ...in dove può arrivare un uomo. Cominciate a farvi un'idea. C'è posto per un'altra persona. Non muoio dalla voglia di portare gente a spasso. Il signore si fida, eh? Non direi proprio. Non ho alcuna intenzione di passare un paio di notti sotto questo tetto con persone che non conosco. Quindi presentatevi. Ok, statemi a sentire. Tutti accompagnerò questa donna alla forca. La ricompensa è di 10.000 dollari. Quel denaro è mio, fanciulli. Oh, interessante. Direi. Non si che sia in combutta con quello là o con lei? È proprio questo il mio problema, non lo so. Uno di loro ha in mente di ammazzare tutti qui dentro. Resta e parlare! Andiamoci piano. Andiamoci molto piano. Quando arrivi all'inferno, digli pure che ti manda Daisy. Oh! Ora morirai! Nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro facile. Ma nessuno ha detto che sarebbe stato così difficile. sapevate che Will Smith rifiutò il ruolo di protagonista in Django Unchained, andato poi a Jimmy Fox? Motivo? Divergenze creative con Tarantino. Sì, Will voleva che il film fosse una storia d'amore e non di vendetta. Ma Will, ma come ti viene in mente? Beh, Quentin non era proprio d'accordo. E meno male, no? Cliccate qui accanto per rimanere con me e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!